La Jursenar, prima mi raccontava un episodio buffo. La Jursenar, personaggio stupendo, vado a Parigi a intervistarla, un donnone, un mito per me, perché Memoria di Adriano, secondo me, è uno dei libri più belli che siano esistiti. Insomma, per farla breve, l'ha intervisto, l'ha intervisto, naturalmente, primissimo piano, vedo questo donno, intanto mi chiede, ma lei è italiano, è vero? Mi dicono che è italiano, sì, sono italiano. Ma in che lingua vuole che facciamo l'intervista, madame? Gli chiedo, e lei mi dice, se lei è italiano, la facciamo in italiano. E io dico, ma lei sa l'italiano? Io so, il latino, il greco, lo spagnolo, il portoghese, sono stata 15 giorni a Firenze, quindi parlo italiano. Naturalmente non era vero per niente, più o meno è venuta fuori una cosa mezza francese, eccetera. Ma soprattutto, la cosa che mi ha colpito, che mentre facevo l'intervista, lei si scriveva sulle cosce, c'era dei coscioni così, delle cosce, sulle cosce si scriveva, prendeva appunti con una penna. Alla fine, io dico, senta madame, ma scusi, ma lei cosa si scriveva sulle cosce? Dice, no, guardi, mentre parlavo con lei, mi è venuta in mente la traduzione di una frase in aramaico che leggevo ieri sera e che mi serve per il libro che sto preparando. E quindi scrivevo la traduzione. Quindi lei parlava in una lingua che non sapeva, diceva delle cose affascinanti, ma intanto traduceva dall'aramaico una frase che gli serviva per il giorno dopo. Ho capito perché è l'unica donna che è stata fra gli immortali di Francia, perché è un'altra categoria. Grazie.